ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo primo video del 2020 oggi diciamo sarà un primo video un box dove vi farò vedere tutto una novità allora come capirete bene da titolo e se avete visto il video degli auguri di natale che ho fatto avrete capito che appunto ho comprato lui ovvero un drone il DJI Mavic Mini l'ho già aperto l'ho già utilizzato e questo guardatelo qua è tutto il suo splendore non starò lì a parlarvi in dettaglio delle caratteristiche perché ci sono davvero tantissimi video ma questo piccolo drone sarà il mio compagno di viaggio per i prossimi viaggi diciamo sarà il mio nuovo compagno di viaggio infatti penso di portarlo in tutti i viaggi che farò anche quello qua a caponord e tutti appunto tutti i giri che farò mi porterò dietro sempre questo piccolo drone che davvero al momento mi sta davvero soddisfacendo davvero tanto allora avendo acquistato la versione base di questo drone che contiene radiocomando il drone e la batteria che già installata più ci sono quattro eliche di ricambio su otto che sono c'è dentro il cacciavettino per togliere le eliche ci sono i vari libretti di istruzioni e tutta la caratteria necessaria per ricaricare il nostro drone quello che mi mancava era appunto che sentivano mancarsi a volte vabbè penso che magari andrò a prendere magari una o due batterie di scorta che mi mancava era un porta diciamo una borsetta dove appunto questa borsetta l'ho fatta arrivare da amazon vi lascerò comunque i link in descrizione sia del drone sia di questa borsa e andiamo a aprire il primo pacco del 2020 ecco qua un piccolo pacchettino con dentro la borsetta ma gencino ovviamente l'ho pagato poco meno di 15 euro e voilà vedete molto piccolo come è appunto il drone andrò ad aprire questa borsettina in cui c'è vedete qua una piccola tasca qua dentro dove andare a mettere magari il cellulare o qualche altra cosa qualche cavetto dove mettere appunto qualcosa in più e in più ci abbiamo tutti gli scompatti dove poter mettere il drone ci andiamo a vedere se appunto ci sta qua vorrei chiudere il drone vorrebbe starci alla perfezione infatti è proprio lui qua c'è posto per il radiocomando e ci sta benissimo anche lui quindi posto per il drone e poi si chiude la nostra confezione voilà molto molto piccolo davvero molto tascabile portatile appunto quello come appunto il Mavic Mini il DJ Mavic Mini appunto un drone tascabile portatile da viaggio io direi da viaggio quindi tutto questo video l'ho fatto per farvi vedere questa mobilità che d'ora in poi credo che i video che farò usciranno anche con qualche piccola dronata e niente vi ricordo di iscrivervi al canale e di iscrivervi anche al canale Telegram dove magari vi metterò qualche qualche offerta da Amazon ma poi quando ci arriverà la bella stagione magari metterò anche dei ritrovi dove poter andare a fare qualche motogira insieme ad altro dirvi ragazzi io vi ringrazio appunto di aver seguito il video spero che vi possa interessare spero che comunque vi possa piacere vi possano piacere i miei lavori futuri nel video precedenti vi ho spiegato un po' quello che farò in futuro quindi se volete vedere i progetti per il 2020 vi metterò magari nella i o in alto da qualche parte il video dove vi spiego tutti i miei progetti per il 2020 io ragazzi vi ringrazio qua e ciao ciao ciao